E' stata scelta la Pineta di San Calogero per riprendere l'attività di pulizia a titolo totalmente gratuito, volta a ridare lustro ad alcune zone della città. Un'iniziativa di Sciacca Pulita che non a caso ha deciso di intervenire domattina sul Monte Cronio, come ci spiega una delle organizzatrici, Piera Catanzaro. E' appuntamento domani alle 8 e mezza alla Pineta di San Calogero. Abbiamo scelto la Pineta di San Calogero appunto perché intanto è l'unico polmone verde in tutta la città praticabile, in un certo senso perché si sa sotto gli occhi di tutti che per ora le terme sono quello che sono, la villa comunale è quello che offre. E quindi è un peccato veramente che una famiglia se vuole passare un'oretta così all'aria libera, spensierati, è tutto sporco, tutto a terra veramente sporco, c'è di tutto. E poi vogliamo anche risollevare il tema del randaggismo perché ultimamente con tutta questa sporcizia ci sono tanti cani ed è veramente pericoloso. Sciacca Pulita opera quindi lì dove il comune non riesce. E per questo motivo i volontari sperano di trovare nella nuova amministrazione un interlocutore disponibile ad avviare un dialogo costruttivo per il bene della città. Noi con la nuova amministrazione vogliamo stringere rapporti veramente di amicizia e di collaborazione. Noi ci siamo e diciamo veramente usateci perché noi con la nostra opera di volontariato vogliamo sensibilizzare tutta la cittadinanza a tenere la città pulita. L'invito a partecipare domani alla pulizia della pineta è rivolto a tutti? Allora l'invito è rivolto a tutti, basta munirsi di guanti, pantaloni lunghi, scarpe comode si sa e calzini ovviamente lunghi. E poi portarsi che sono la bottiglietta dell'acqua, queste cose semplici, nulla di eccezionale.